Il Livorno conta i danni di questa sconfitta con la Sampdoria davvero immeritata, giornalisticamente parliamo così, parliamo da tifosi, parliamo da tifosi. Il Livorno ha giocato una buona partita, soprattutto nel secondo tempo, ha avuto anche le sue occasioni, la traversa di Greco è stata clamorosa, ma è sui rigori che ci soffermiamo, non per aggiungere molto altro rispetto a quello che è già stato detto e scritto, una postilla la vorremmo fare a proposito del fatto che è stato dato un rigore al 97, giusto o non giusto, fa bene Nicola a dire non commento mai le decisioni arbitrali, non le commentiamo neanche noi, magari i rigori c'erano, per carità, sicuramente c'era il primo, quello di Duncan, non commentiamo sul rigore causato dal capitano Andrea Luci, ma eravamo al 97 con le squadre sull'1-1, secondo noi, magari diremmo anche un'eresia, al 97 in una partita del genere a una squadra in caso o rigore contro non andrebbe dato. Celi non è stato scandaloso, ci sono stati arbitraggi anche peggiori, però forse è una questione di opportunità, al di là di quello che poi si è visto in campo, di quelli che sono i meriti effettivi.